No, 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 no! No, 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 no! Maia, da questo, dai, guardiamo, io non lo stavo, perché il feridello dei cordoni già aspettava. Sono tirato, avete chiamato a tirare? No, dai, guarda, tu! Oh, tu! Oh, tu! sempre insieme a Tessare, alla capitata che a voi di seguire la strada, di dare il ruolo sempre insieme a Tessare, a come a Tessare, a come a Tessare, a come